Incredibilmente Biden ha vinto su Trump con un certo margine da non sottovalutare. Ma perché noi italiani siamo qui da settimane a sentir parlare delle elezioni negli Stati Uniti d'America? Ora, non voglio approfondire troppo in dettaglio il risultato delle elezioni. Per quello c'è gente più esperta come Francesco Costa del post, vi lascio un video in descrizione. Ma l'impatto che questo avrà su di noi è da inquadrare. Il voto di un paese che ha quasi 6 volte la popolazione italiana e che dista da noi più di 7000 chilometri, a cui politici e giornalisti nostrani non lesinano di attribuire titoloni come il presidente del mondo libero. Ma libero da che? Comunque a gennaio-febbraio davo per certa la vittoria di Trump. Ma cosa è successo esattamente dopo quel periodo? Esatto, la pandemia globale che ha condizionato pesantemente anche queste elezioni. Infatti Trump ha sbagliato tutto, continuando ad urlare e a negare, quando in quei momenti la gente ha bisogno di tranquillità, rassicurazioni e certezze su cosa fare. In poche parole ha negato la pandemia, si è ammalato ed è stato licenziato. Però non è tutto qui, la scelta di un candidato come Biden, molto noto e moderato, assieme ad una vice, Kamala, donna di colore, ha permesso di richiamare il pubblico democratico più grande di sempre a queste elezioni 2020. Da noi si direbbe il classico voto contro. Ebbene, quindi Biden ha vinto e non ci piove, anche largamente, con al momento di questa registrazione 279 voti contro 214, da sottolineare che non c'è stato nessun recupero sul finale di Biden, ma solo una differenza di voto tra repubblicani e asseggio e democratici per posta. Quindi tutte le proteste di Trump sono solo le urle isteriche di un balilla tignoso a cui hanno tolto dalle mani il giochino che però era in realtà il detonatore di una bomba atomica. Però, prima di passare al punto nevralgico del discorso, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mettere mi piace, commentare e condividere questo video. Sapete già che tutto questo mi rende molto felice, come anche tutti quelli che hanno già deciso di sostenere le mie attività online su Fantascientificas, il mio sito web marcotadia.net e i miei social. Però, a me è dispiaciuto che Trump abbia perso. Tranquilli, non sono impazzito, seguite solo il mio ragionamento. In questi quattro anni Trump con la sua politica americano-centrica ha portato scompiglio nel mondo. Questo non è certo un bene, soprattutto per l'economia globalizzata, ma lo ha fatto in un decennio in cui era già in atto un cambiamento non da poco. Parlo di una Russia di Putin più presente sul piano globale, con guerre e appoggi a stati satelliti che non si vedeva dalla caduta del muro di Berlino. Parlo anche di una Cina che zitta zitta si è affacciata pesantemente come potenza egemone sia in Asia che in Africa e che sta erodendo peso politico globale. Trump quindi ha solo accelerato un cambiamento già in atto. Questo accelerare non è di per sé un male, lo insegna fra l'altro Asimov nel suo ciclo della fondazione. Nel nostro caso le azioni di Trump e quelle della Gran Bretagna che ha votato la Brexit sono state un forte incentrivo a riavviare un progetto, quello di Unione Europea, che dopo un solo ventennio sembrava già arenato e logoro da diatribe interne. Adesso lo dico senza ritegno. Questo periodo storico è favorevolissimo all'Europa e ad una sua unificazione anche militare e politica, oltre che economica. Cavolo, abbiamo ottime democrazie, una cultura millenaria, una sensibilità verso il prossimo decisamente spiccata, un'ottima istruzione, sanità pubblica e diritti per il cittadino ben tutelati e in continuo miglioramento. A cosa vogliamo ambire? Ai diritti civili tutelati dalle forze dell'ordine degli USA? Al Polonio di Stato della Russia? O ancora ai centri di rieducazione uiguri cinesi? Quindi perché, e mi ricollego alla domanda iniziale, perché siamo qui da settimane a parlare delle elezioni del Presidente degli Stati Uniti d'America? Lo volete capire che anche se ora Biden ha dichiarato di voler far retromarcia totale sulle decisioni più assurde di Trump, dal clima alla Nato, passando per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, questo non cambierà il fatto che l'Europa debba iniziare a pensare a se stessa come parte fondamentale e unica della propria capacità di autodeterminarsi, senza dover ricorrere alla protezione di altre forze egemoni che siano USA, Russia, Cina o chi altro continuerà ad emergere? Io sono quindi stanco di continuare a sentire una retorica sorpassata da parte dei nostri politici e giornalisti che insistono nel premere e focalizzare l'attenzione sulle presunte grandezze o avvenimenti degli USA, che per riflesso poi dovranno ricadere su di noi come se fossimo dei meri vassalli del signore feudale, pronti fra l'altro a cambiare bandiera nottetempo se il signore feudale dovesse cambiare, un perfetto stile italiano insomma. Diamo quindi giusto spazio e peso alle notizie del mondo, iniziando a conoscerlo meglio nelle sue complessità e sfumature senza pensare che solo una di queste sia la più giusta di tutte. Ok, scusate, mi fermo perché ormai è palese, sono politicamente sbroccato, quindi è un bel respiro profondo e sappiate che non ho intenzione di trattare per molto tempo altri argomenti politici. Vi ricordo di commentare per avviare una discussione su quanto ho esposto, ci sono anche i miei social per quello, mettete mi piace e condividete questo video, io adesso vado a farmi una bella doccia gelata per raffreddare il mio neurone. Alla prossima, ciao!